Emanuele Marchiani, secondo palleggiatore della Tonocal di Pocalabria Vibo Valencia. Questa sera un test per, tra virgolette, le seconde linee della squadra contro i cinque frondi. Che indicazioni hai tratto? Ma è un test utile che ci serve a noi, diciamo, della panchina per tenerci sempre il ritmo partita. Quindi facciamo sempre ben volentieri queste amichevoli. Ci serve per tenerci sempre in forma anche noi, allenare bene i titolari e comunque arrivare pronti alla partita se dobbiamo entrare. Reduci dalla bella vittoria di Brescia, nonostante quel secondo set per sei vantaggi, poi la grande reazione nel terzo e nel quarto, soprattutto nel terzo. Come l'hai vissuta tu dalla panchina? La squadra certamente ha dimostrato di essere in crescita. La partita dalla panchina è stata difficile sicuramente perché tanto è sempre fuori casa. però, diciamo, se teniamo il nostro ritmo di squadra, è stata una partita a senso unico. Il secondo set magari noi abbiamo abbassato un po' il livello, loro sono stati in partita, qualche decisione un po' dubbia, è andata a loro. Però poi si è visto nel terzo set che volevamo chiudere velocemente il match e portare questi tre punti utili a casa. Tre punti importanti per la classifica e per il morale. Da domani si ricomincia di nuovo con una trasferta a Castellana. L'obiettivo è sempre quello di vincere e migliorare. Ancora un'altra trasferta e come ogni settimana lavoriamo, lavoriamo perché ancora dobbiamo crescere. Il campionato è lungo, Castellana come sappiamo è un campo difficile e quindi ce la metteremo tutta ancora. Servono i tre punti per continuare il nostro cammino e rimanere là in alto.